Benissimo, benvenuti alla seconda lezione sugli hood in particolare vediamo un hood che permette di gestire il movimento in maniera cooperativa allora come funziona questa cosa? innanzitutto abbiamo un pannello, adesso vi farò vedere la versione prima senza hood quindi un pannellone grosso che è questo qua e poi con l'hood, vedete questo pannellone piccoletto qui a fianco allora gli oggetti che vogliamo gestire per esempio questo qui è un pezzo di tangram tangram 05 dentro c'è uno script, script slave per movimento da hood e il nostro hood, anche questo, c'è uno script dentro che si chiama hood root script allora prima di tutto vogliamo muovere quel pezzo quindi per muoverlo cosa facciamo? dobbiamo prima di tutto cliccare il pezzo quindi dobbiamo prima dichiarare la nostra intenzione di muoverlo quando lo clicco vedete che sopra compare il nome dell'avatar che lo vuole muovere a questo punto io posso cliccare sulle freccine qua e man mano che premo le freccine mi aspetto allora questo farà muovere tendenzialmente il pezzo di un metro verso destra vedete? è obbediente questo lo fa muovere verso... quindi questa sarebbe diciamo la x vediamo un po' se è la x no, è la y insomma, adesso qui dipende da come è messo il movimento comunque questo qui lo muove praticamente nella dimensione ne ho un po' opzioni... niente vabbè lo muove praticamente nella direzione in cui è segnalato qua ok, quindi muove verso destra verso sinistra e così via poi qui abbiamo la possibilità anche di muoverlo verso l'alto adesso qui vedete che è anche un po' scomodo vediamo perché in pratica è meglio averlo come hood dopo un po' lo script se ne va cioè la selezione se non tocco l'oggetto per più di un certo intervallo di tempo lo script si disattiva in modo tale che un altro avatar possa muoverlo quindi se lo clicco una volta lo attivo e se lo clicco un'altra volta si disattiva quindi clicchiamolo e poi gli diciamo così ecco così gli stiamo dicendo di tornare alla posizione originaria allora a questo punto dobbiamo di nuovo riprenderselo e possiamo fargli di nuovo le varie cose quindi tra le altre cose che possiamo fare è farlo andare in su vedete in su di un metro in giù di un metro e poi possiamo anche farlo ruotare di 45 gradi verso in senso anti-orario o a 45 gradi in senso orario e poi ci sono questi più 1 o meno 1 che indicano praticamente da un metro lo fa ogni volta che lo clicchiamo questo praticamente produce un movimento un po' più forte in modo tale che se adesso facciamo questo vedete che si muove di più ma questo diciamo per il momento lasciamolo via la cosa importante sono questi tasti di rotazione e di reset ok? quindi di reset vedete si perde la cosa ora noi prendiamo ancora il hood questo qua e proviamo a indossarlo allora questo qui si chiamerà hoodroot v0.5 small lo cerchiamo nell'inventory oppure lo costruiamo o lo troviamo quindi hoodroot ah non negli elementi recenti ma sarà qua hoodroot dunque non nelle texture tutti i tipi quindi adesso forse hoodroot v0.5 small ora a questo punto facciamo la prima volta soltanto credo siamo dobbiamo attaccarlo a hood lo mettiamo in un certo punto per esempio top left eccolo lì usiamo le tecniche viste nella lezione precedente per mettercelo in modo tale da vederlo ok esc a questo punto abbiamo l'hood qua a disposizione ci riprendiamo l'oggetto e proviamo vediamo che diventa molto più comodo insomma muoverlo e farlo girare grazie a questi due script qui se per caso fosse troppo piccolo questo potete sempre fare il ctrl shift come abbiamo visto prima e avere un hood diciamo delle dimensioni che vi aggradano meglio l'hood continua a funzionare se noi abbiamo più pezzi in realtà possiamo anche agire sui vari pezzi vedete questa è un'altra versione dello hood e qui sono tutti e due attivi quindi se io gli dico di muoversi si muovono tutti e due no? e magari lo facciamo da questo che è più comodo vedete che in realtà è molto svantaggioso è scomodo avere il pannello qui perché se si clicca quando lui sta ancora lavorando succede questo fenomeno che avete visto nel video quindi ecco uno dei vantaggi notevoli degli HUD che si possono usare senza creare problemi su per giù questo è tutto quindi voi nel momento in cui avete un vostro oggetto qualunque dovete metterci questo script quindi per esempio supponete di creare un oggetto una struttura in cui c'è un cubo e una sfera facciamo di nuovo cubo sfera e poi fate un'altra struttura dove c'è praticamente complicata piacere adesso faccio per faccio una struttura di cubi una presso l'altra ok? e poi li linko assieme uno, due, tre col control questo, control, l ok, allora a questo punto lo script che pilota tutto che ce l'ho qua che c'è script slave per movimento da HUD quindi vediamo un po' se ce l'ho script slave eccolo qua questo qui lo posso spostare dentro gli oggetti quindi se io faccio ecco questo è un trucchetto molto carino io prendo lo script premo control allora se trascino lo script sull'oggetto premendo control vedete che l'oggetto diventa rosso e quando lascio lo script viene praticamente inserito dentro quindi metto lo script dentro questi tre oggetti e a questo punto questi tre oggetti sono pilotabili dal mio HUD quindi se io clicco qua sopra vedete adesso la mia parte la scritta è leggermente diversa quindi posso muovere praticamente tutta questa questa struttura se io clicco questo e questo lo cancello praticamente posso muovere solo la 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 sfera e se clicco questo e magari clicco tutti e tre e li voglio spostare tutti su di un metro quindi questo diventa un modo per gestire insieme insomma la cosa poi se io faccio questo tutti gli oggetti vengono rimessi nelle loro posizioni originali questo eventualmente è una possibilità che in qualche caso potrebbe non essere buona ecco solo una cosa l'oggetto considera come posizione originale quella in cui è messo quando viene fatto il reset quindi se volete mettere una configurazione originale diversa dovete andare nel cioè selezionare l'oggetto metterlo nella posizione che vi interessa e poi dovete fare il reset degli script i vi contenuti e lo fate anche da strumenti e abbiamo reimposta ricompili dunque questo qua modifica ecco vedete che c'è lo script qua quindi per fare il reset potete fare strumenti reimposta gli script nella selezione e vedete che questo punto si cambia facendo questo vedete lui si sposta lo sposto e quando faccio reset lui torna in quella posizione da cui era partito ok allora adesso ricordatevi appunto che gli script sono disponibili nella descrizione in pastebin li copiate dalla descrizione dell'oggetto questo hood è invece lo trovate nel negozietto appena riesco lo metto bacchettatemi pure se non lo metto ancora e come vedete la lezione in realtà una volta capiti cosa sono gli hood come si costruiscono è molto breve ovviamente c'è tutta la parte di script come funziona esattamente lo script che qui io non vi sto spiegando in dettaglio ma per chi fosse eventualmente curioso in realtà è molto semplice vedete che questo è un cioè semplice per chi lo sa ovviamente questo è l'hood composto anche qua posso vederlo composto da tanti tasti vedete qui si vede meglio sono tanti prim ogni prim se lo vedo se io clicco e seleziono ognuno di questi prim vedete che c'ha un nome questo si chiama più uno questa è la freccia che si chiama z-up questo si chiama up questo si chiama right e questo si chiama rot-right e questo rot-left insomma sono le due tra l'altro sono in questo caso sono perfino invertite questo si chiama reset e così via quindi lo script che c'è dentro si limita semplicemente in realtà è relativamente corto si limita semplicemente quando viene premuto un tasto quindi va a vedere qual è il nome del tasto premuto quindi lo fa praticamente in qui cerca di capire il nome del tasto premuto con questi due comandi poi va a cercare praticamente ogni avatar c'è un numero che lo rappresenta questo numero è in pratica il proprietario del del nostro oggetto quindi la owner key questo tra parentesi implica che quando usate gli hood è meglio sempre fare un reset del hood lui praticamente su un canale che è un codice che è locale al cioè che è univoco per ogni per ogni avatar manda questo comando qua cioè manda il comando dove dice qual è il tasto premuto a questo punto l'altro lo script che abbiamo visto che è lo script che rispondeva a tutte le richieste si limita a avere è un po' complicato ma lo descrivo brevemente quando viene cliccato si registra il codice dell'avatar che lo lo vuole insomma che lo vuole usare e poi quando riceve dei comandi va a vedere se effettivamente lì se viene fatta soltanto sul canale corrispondente all'avatar che l'ha preso e quindi soltanto da quell'avatar e soltanto dal hood di quell'avatar risponde ai comandi per cui si va a eseguire tutte le varie possibilità questo credo che sia tutto per lo hood diciamo di rotazione quello che adesso qui abbiamo chiamato magari gli diamo ce chiamiamo hood root ma chiamiamolo se il prossimo hood si chiamerà quiz hood questo qui lo possiamo chiamare move hood ok il move hood è interessante perché permette di muovere cooperativamente degli oggetti quindi per disporre dei puzzle ad esempio o per per ricomporre delle situazioni o per fare insomma dei giochini o qualunque cosa vi venga in mente ora per oggi è tutto vi ringrazio buona serata è tutto